Ci troviamo qui a Barile con Emilio D'Andrea, autore di questo interessante libro Tutti i colori dell'arcobaleno, la transumanza perduta. Raccontaci un po' i punti salienti di questo tuo volume. Ma è un romanzo che parla di sentimenti e dove ci sono sentimenti c'è una storia, ci sono dei valori, ci sono delle aspettative, ci sono sogni, c'è amicizia, c'è amore, ci sono anche delusioni, rinunce e patimenti. Ma senza patimenti e senza rinunce diciamo che lo stimolo della vita verrebbe meno. E quindi credo che salvo le recezioni, chi non abbia mai sofferto, avuto un problema, grande o piccolo, non ha potuto mai effettivamente fare il grande viaggio della vita. Perché poi si parla di transumanza, quindi è un viaggio che presuppone un'andata e un ritorno. Ci sono anche viaggi purtroppo senza ritorno, i viaggi dei nostri progenitori che sono andati via all'estero per lavoro, i viaggi di tante persone che scappano dalle guerre, dalle devastazioni e finiscono purtroppo tragicamente in fondo al mare. Ci sono i viaggi della speranza, ci sono i viaggi interiori che forse sono quelli più lunghi e tormentati, ma che alla fine attraverso la fede o attraverso la speranza si riesce a raggiungere una meta, a concludere un percorso che ci fa crescere. E in questo libro ci sono le aspettative di un bambino che poi diventano le aspettative di una comunità, di un'intera generazione, perché parte dai primi anni Sessanta e arriva fino ai giorni nostri, con tutto il passaggio socio-culturale di quella realtà contadina, agreste, pastorale, poi con l'industrializzazione, con i problemi successivi del terremoto e dell'evoluzione scientifica, sociale e culturale, con l'avvento della tecnologia e con l'acquirsi di tanti fenomeni devastanti come la guerra, le epidemie. Quindi affronta una serie di problematiche e cerca non di dare risposte, perché lo scrittore non dà risposte, lo scrittore racconta, racconta i sentimenti, racconta le storie, cercando di suscitare emozioni. Poi ogni lettore lo interpreta secondo il suo vissuto, secondo la sua esperienza interiore, e secondo quello che si aspetta dalla propria vita, di realizzare e di donare agli altri. All'interno di questo interessante volume abbiamo potuto constatare una forte rievocazione di quella che era la vita di un tempo in una piccola comunità come Barile, ma così come in tutta la Basilicata. Secondo il suo punto di vista, quali sono le differenze tra la società di un tempo e la società contemporanea? Ma sono venuti innanzitutto meno i valori della terra. Ecco, i valori della terra che erano valori di una semplicità, quelle azioni quotidiane che si ripetevano giorno dopo giorno, l'andare in campagna, portare al pascolo gli animali, mungere il bestiame, tornare la sera, accendere il fuoco. Questa semplicità che aveva una grande ritualità, aveva un grosso valore culturale e sociale, perché c'era tanta povertà, tanta miseria, forse anche tanto analfabetismo. Però c'erano i valori della solidarietà, i valori del vicinato, il controllo sociale nel senso benevolo, cioè tutti si davano una mano. C'era anche il baratto, perché non circolavano molti soldi fra le famiglie. Quindi uno dava il grano, l'altro dava l'olio, chi dava il vino e l'altro dava la farina, gli ortaggi, il pollo. Quindi si cercava di sopperire a quelle esigenze quotidiane per crescere una famiglia. C'erano le famiglie numerose. Oggi diciamo che c'è una crisi anagrafica che crea problemi all'Italia e soprattutto al sud e ai nostri paesi che si stanno spopolando. Prima c'era la piazza, c'erano le fontane, c'erano le botteghe artigiane, dove ci si incontrava. E c'era una simbiosi fra giovani generazioni, fra i ragazzini, insieme a quelli più grandi e insieme alla saggezza degli anziani che trasmettevano la memoria popolare. E questo libro, per certi versi, non vuole essere un atto di mera esterea di nostalgia, ma vuole trasmettere una memoria storica e culturale affinché questi giovani, che sono muniti di strumenti tecnologici importantissimi, ma talvolta diventano deleteri, devono riscoprire i valori, perché scoprendo chi erano i loro nonni, i loro genitori, i loro progenitori, potranno capire il valore vero della vita, il valore vero dei sentimenti e far tesoro di queste cose per far progredire ulteriormente alla società in cui viviamo.